Il gruppo di profughi sbarca a Lampedusa, luogo solare del sud per raggiungere il nord Europa in cerca di fortuna. I clandestini sono sfruttati dallo scafista Escamiglio e braccati dalle forze dell'ordine comandate dal severo carabiniere Don José. Al centro di una storia che parla insieme di disperazione e speranza, l'amore travolgente tra Carmen e Don José, segnato dal tentativo di quest'ultimo di piegare il fiero spirito ribelle della donna amata ad una vita fatta di routine passeggiate e tanta televisione. E Carmen, la storia d'amore e di passione più amata dal pubblico nella nuova versione in balletto di Luciano Cannito che ha inaugurato la 72esima stagione concertistica degli Amici della Musica a Taranto sul palcoscenico del Teatro Orfeo con protagonisti Rossella Brescia e il ballerino cubano Milcar Moret Gonzalez con il corpo di ballo della compagnia Danza Italia. Per tre anni Carmen è stato lo spettacolo di danza più visto d'Italia e ha vinto il biglietto d'oro, si chiama così il biglietto d'oro, il box office più alto dal punto di vista degli incassi. Ed è nato per raccontare la storia di Carmen, quella dell'opera lirica, famosissima, che è una delle opere più famose del mondo, però l'ho riportato nei nostri giorni. Ballare qui nella tua terra ti emoziona sempre? Sì, molto. Devo dire che quando ho saputo che avevamo anche la data a Taranto sono stata subito felice di questo perché è un grande piacere per me portare tutto quello che ho imparato, la mia esperienza, il mio lavoro qui, dimostrarlo nella mia terra e sono veramente felice. Tu hai collaborato con Studio 100 qualche tempo fa per una trasmissione sportiva, esperta anche di calcio, che ricordo hai? Aspetta, esperta di calcio proprio no. C'era Gianni che era bravissimo e sapeva tutto lui, io mi inserivo e facevo la mia parte di totale inesperta. Poi figurati, uno sa cose sulla Juve, sulla Roma, poi invece lì mi sembra fosse serie C, serie anche un po' diversa ecco, quindi non ero per niente preparata, però devo dire che studiavo. Il giorno prima studiavo, cercavo di capire chi aveva vinto, chi era in testa, ho dato il mio contributo da inesperta, se così possiamo dire. Per i meno esperti di danza sei noto per la tua partecipazione ad amici, quella che esperienza è stata? Vabbè, la partecipazione alla trasmissione di amici è comunque la mia unica esperienza televisiva, è una trasmissione televisiva, però comunque è molto vicino a quello che facciamo anche noi in teatro, perché è veramente l'unica trasmissione dove si vede veramente la danza. Allora, cioè, mi fa molto piacere fare parte di quella trasmissione e niente, cioè, credo che è un'esperienza molto bella per quello che è la mia carriera come ballerino. Una Carmen rivisitata a questo spettacolo è tra gli spettacoli di danza più visti in tutta Italia? Eh, ci credo comunque, la Carmen è un'istoria comunque molto forte, e credo che Luciano ha fatto un bel lavoro e niente, c'hai una bella compagnia. Sono felice anche di essere parte di questo spettacolo.